Il Comune di Gravini in Puglia, al termine di una specifica istruttoria dell'Ufficio di Servizio Sociale, ha approvato un provvedimento che prevede lo stanziamento di fondi straordinari per le famiglie in difficoltà economica. Dal bilancio comunale saranno prelevati 54.000 euro per rispondere alle numerose richieste di aiuto da parte di soggetti appartenenti a famiglie indigenti con problematiche sociosanitarie. La somma totale in questione sarà presa da specifici capitoli di bilancio, nello specifico 26.000 euro dal Fondo per il Servizio Civico, 8.000 euro dal Fondo di Solidarietà, 10.000 dal capitolo dedicato all'assistenza agli indigenti, altri 8.000 destinati all'assistenza ai detenuti e infine 2.000 euro dal capitolo Buonipasto. Contestualmente è stato approvato anche l'elenco degli eventi diritto disponibile presso gli uffici comunali.